I trialisti veri lasciano la moto accesa anche sul carrello che vanno a casa Esatto, è già accesa per settimana prossima Eh ascoltami eh Resta a posto E che cavolo Eh Avete capito? Oh Oh dovete imparare dai pilotoni eh Dovete imparare dai piloti veri che fanno le gare Lui mette sulla moto, la lascia accesa e va a casa con la moto accesa Quando arriva su al lago la tira via e c'è la moto già bella pulita tutta E' così eh E' così che si fa Ma non c'ho la mano Ma che cazzo provo? Ma sono per vedere la differenza Ma su mia boom Eh così mi incazzo Se prende una mano E' così questa Oh mio amico Vai rocco Ma per capire la differenza della tua Se prende la mano Eh appunto Ascolta Ma qua no Questa 13-15 euro Eh non lo No è il 300 Ma me l'hai messo là per farla portare qua Eh io Ascolta pensavo Io me la son portato dalla bene fino a qui Ma fa un cuore Ascolta arrangiatevi Ma mi capire Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Aiuto Eh Ah No Ah 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 Sì, 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 Sì. Sì, 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 sì. E' un'altra cosa. Grazie. 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 Quello non ti conviene. E' un'altra roba. Lavora in un'altra maniera. C'è il peso un pochino diverso che non capisco. Perché ogni tanto mi ciula. Però il mono. Lavora da Dio. Ciao gente ci vediamo stavo. Ciao. Ciao. Sì nel frigo. Eh ma è chiusato. Aspetta. Cazzo quello non mi sono ricoltato. C'è il frigo dentro con la mia dietro è legata tre volte di più. C'è il frigo dentro. C'è il frigo dentro.